stata promessa un'accelerazione nei lavori abbiamo contattato l'assessore allo sport Emanuele Aiorio per saperne di più. L'assessore rassicura i tifosi rosso-blu, gli operai ci ha detto stanno lavorando al consolidamento delle tribune esistenti ma già è stato ordinato il materiale che comporrà le curve ma considerando agosto come mese di ferie i pezzi saranno installati dice nella prima decada di settembre. La ditta ha già assicurato che i tempi di montaggio saranno brevi. Superata questa fase come ben sapete ci sono il manto erboso, le torri faro e la videosorveglianza, il proprietario al comune valente al quale appaltato è il provveditorato alle opere pubbliche e vi posso assicurare spiega la Aiorio che sono in contatto quotidiano col provveditore. Si sta predisponendo dunque il tutto per assegnare i lavori e contiamo dice l'assessore di riconsegnare alla città questo stadio a fine novembre. Intanto però dice la Aiorio la massima attenzione come sapete è riservata allo stadio fattori. In questo caso tutte le opere accessorie vanno completate in tempi ristrettissimi entro il 30 luglio in modo tale da ospitare Coppa Italia inizio campionato. Il dibattito sul nuovo stadio infiamma la tifoseria che anche sul sito l'aquilame.com esprime poca fiducia alle nuove rassicurazioni tant'è che qualcuno ha già contattato striscia alla notizia per far realizzare un servizio mentre altri avrebbero minacciato addirittura esposti in procura. L'auspicio nostro chiaramente è che tutto si faccia nei tempi previsti e promessi. Questa città ha troppa fame di calcio e ora che abbiamo questa categoria tutto deve essere davvero tutto all'altezza. Domani il comune di Antrodoco conferirà al nono reggimento